Grande successo per l'esposizione internazionale felina che si è svolta a Pisa e ha visto partecipare circa 300 gatti, suddivisi nelle quattro categorie, peli corti, peli lunghi, peli semilunghi e siamesi orientali. L'evento ha visto la partecipazione di adulti e bambini, gattofili e non. I criteri sulla base dei quali sono stati valutati i felini sono stati il comportamento e la bellezza. Siamo qui alla stazione Leopolda per questa edizione dell'esposizione internazionale felina che quest'anno dopo molto tempo si svolge a Pisa. Abbiamo provato questa piazza perché era molto tempo che non c'era una manifestazione di questo genere. Abbiamo avuto un bel riscontro perché abbiamo avuto sia ieri che oggi 250 gatti, il massimo possibile per questa sala perché non è enorme. Ieri abbiamo avuto moltissimi visitatori perché sono arrivati tra ragazzi e adulti 1300 persone, più i bambini che non pagano, quindi non sappiamo di preciso. E oggi già la mattina della domenica, nonostante le persone si alzino più tardi, potete vedere che c'è già molto pubblico. Quindi siamo soddisfatti, speriamo di poterla ripetere anche in futuro questa manifestazione. Grazie. 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 Grazie.